Eccolo, eccola qua, questa è la famosa granita di mandorle e caffè con il nostro amico Mato. Eh, fantastico, fantastico. Ce l'abbiamo fatta. La Catania, finalmente, Catania con la nostra granita. Sono le 8 di mattina e ci abbiamo fatto fregarci, sì, sono con la granita tipica della Catanese. Gli arancini, gli arancini. Grande momento, aspettiamo un'inversione. Ecco qua, Catania è il treno. Mi scusi, un'informazione, scusi, un'informazione. Eh, la pescheria? La pescheria è sempre dritto, è sempre dritto, non si può sbagliare. Ma lei dov'è? È di Catania. Sì, ma l'ho perso l'accento. Ah, sì, ma parla molto bene. Arancini? È sempre dritto, come la pescheria. Allora, ragazzi, ebrivali, know that we are in Sicilia, this is the beautiful, now we are going to the fish market, eh, la pescheria. Dove la gente vende il pesce vivo, molto ammazzato, il pesce qua è ammazzato. Viva Sant'Agra, sempre viva Sant'Agra. Viva Sant'Agra. La parte più buona. Madonna mia. E' la buona. Ragazzi, anni, mezzis, tipica arancino. E' un po' a spello nella carne. No more Fantastico Un momento molto importante La gestione della ragazza di noi Il fratello anche di Max Sto al telefono con Manuel Come a Maievie Come a Maievie Ma quando è? Quando è? Quando è? Giro, un giro Chi è? Ragazzi, dopo il vaffanculo dei Anche il Memorial Day Bellissimo, Catania Catania, l'acqua è flotante Dicolo che è flotante Ecco qua, il compleanno di Luca Valeria, Valeria Sbagliate le corse Anche le corse Augur lui, grazie Ho sbagliato Volta Max Scusa su Numero 16 Mangera Buongiorno 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 Signor e signori, si è conclusa oggi la partita all'emispare, il campo Massimino di Catania qui, bellissima. Signor e signori, si è conclusa oggi la partita all'emispare, il campo Massimino di Catania